eccoci qui ragazzi bentornati sul canale anche mario rui chiede la cessione però ci sono delle cose da analizzare per quanto riguarda il suo procuratore mario giuffredi perché ogni qual volta trova l'occasione di buttare benzina sul fuoco non ci penso due volte riavvolgeremo il nastro ritorniamo a cinque mesi fa perché ci sono delle dichiarazioni di cinque mesi fa nella sessione di mercato di gennaio dove mario giuffredi buttò benzina sul fuoco e a ogni sessione di mercato vuole dire sempre la sua è sempre un tantino fuori luogo e secondo me fa anche trasparire un tantino di incompetenza dal mio punto di vista fatemi sapere ovviamente la vostra nei commenti ragazzi se vi va iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche vi leggo le parole di giuffredi in base alla cessione che è stata richiesta da mario rui perché da stamattina questa è la notizia e ritorniamo un attimo a cinque mesi fa perché io feci solamente uno shorts dove mi scagliai contro il procuratore in questione perché cari ragazzi secondo me dovete cambiare dovete cambiare procuratore è lo stesso procuratore di lorenzo sicuramente però ogni qual volta deve buttare benzina sul fuoco non ci pensa due volte cinque mesi fa nella sessione di mercato di gennaio se ne uscì che spalletti preferisce oliveira nelle partite fisiche e se non si punta sul mio assistito dobbiamo guardarci intorno eccetera eccetera fece quelle dichiarazioni nell'anno dello scudetto nell'anno in cui il napoli non ha avuto rivali nell'anno dove mario rui ha fatto bene stava facendo bene e non c'era sicuramente bisogno di uscirsene così ma conosciamo il soggetto in questione e a me ogni volta che mi si presenta la faccia di giuffredi davanti mi viene il prurito mi viene il prurito perché sono quei quei volti che li vedi da lontano che sono meschini tanto è vero che non si è perso tempo dichiarazioni di giuffredi al veleno secondo me per quanto riguarda questa sessione di mercato vi leggo cosa ha detto giuffredi e le commentiamo insieme allora cosa è successo tra noi la società giuffredi dice avevo comunicato al presidente le intenzioni e le esigenze di mario rui aspetti che de laurentis diverse volte si è reso disponibile ad accontentare nei fatti non è andato assolutamente così dopo vari confronti con il presidente sia di persona che telefonici con uno scambio anche vivace di punti di vista credo che de laurentis non abbia riconosciuto il giusto valore al mio assistito un qualcosa che io ritengo assurdo per quanto dimostrato da mario rui riconosciuto dalle statistiche come uno dei migliori terzini della nostra serie a ho comunicato io al presidente e mario rui al mister che se dovesse arrivare un eventuale proposta chiederemo la cessione la frase al veleno è questa se non dovesse arrivare un progetto convincente allora rimarremo e ci sarà un ulteriore giocatore scontento nella squadra degli scontenti allora punto primo chi sta guardando gli allenamenti come me e segue napoli tutti i giorni vede che comunque al di là sicuramente della situazione calciomercato della situazione zielinski le sirene dalla rabbia i rinnovi che non sono arrivati il mercato che deve ancora entrare nel vivo in entrata ci mancano i pezzi gli infortuni eccetera eccetera non c'è nessun malcontento perché io vedo tutti i calciatori entrare in campo ed allenarsi col sorriso sulle labbra autografi con i con i tifosi eccetera eccetera quindi nella squadra degli scontenti già non ci siamo perché secondo me di scontenti non ce ne sono al limite sarà scontento lui perché perché già ha ribadito che lui da professionista ha già fatto rinnovare il contratto a di lorenzo senza aumenti dell'ingaggio e senza mangiarci sopra tra virgolette quindi secondo lui ha già fatto troppo a livello professionale punto primo punto secondo io dico caro giuffredi se tu non sei in grado di presentare il tuo assistito ad un'altra squadra che abbia un progetto tecnico allettante visto il calciatore in questione che non si discute uno dei migliori terzini della nostra serie a e oltre perché mario rui è uno dei migliori terzini sicuramente della nostra serie a e oltre allora non sei buono a fare il tuo lavoro non sei buono semplicemente a fare il tuo lavoro perché il tuo lavoro è trovare un progetto ai tuoi assistiti nel caso si aprano delle cessioni nella squadra dove sta al momento nel caso il tuo assistito non si trova e ti chiede comunque di andar via da qualche altra parte quindi se tu non sei in grado di portare un'offerta al presidente della società in questo caso il napoli vuol dire che sei incompetente nel mestiere che fai secondo me poi c'è anche chi la può pensare come al solito e sì ma quella è sempre colpa del presidente perché non si è rinnovato non accontente i calciatori eccetera eccetera va bene voglio anche mettermi dall'altro lato di tifosi che vogliono scagliarsi contro la società e dare ragione ai procuratori non sono d'accordo e non è la mia visione di calcio perché io sono non è che voglio sempre dare ragione al presidente però io sono per un calcio dove i procuratori potrebbero tranquillamente non esistere e i calciatori dovrebbero essere loro a trovarsi la squadra così come tu sei un dipendente di qualsiasi società vai via da un posto di lavoro te ne trovi un altro eccetera eccetera quindi non posso non posso non non irritarmi a queste dichiarazioni perché tu stai buttando benzina sul fuoco con questa dichiarazione rimarremo allora in una squadra di scontenti non ce ne sono scontenti punto primo è una situazione al momento delicata sì perché è una situazione delicata per quanto riguarda il calcio mercato quindi tu da professionista puoi chiedere la gestione di mario lui sei libero di farlo qua nessuno dice che non devi chiedere la gestione del tuo assistito però ci sono modi e modi e mario giuffredi di modi come si deve non ne ha mai avuti non ne ha mai avuti tanto è vero che io feci solo uno shorts cinque mesi fa per quanto riguarda quelle dichiarazioni che dicevano che poi spalletti stava puntando su oliveira denigrando il suo assistito quando invece allora tu sei entrato in un progetto tecnico dove a mio avviso sei completamente incompetente perché non puoi entrare nelle scelte di un allenatore per quanto riguarda la lettura tattica di partite io ho due terzini che sono forti tutte e due quando me ne serve uno schiero uno quando l'altro ha caratteristiche che possono essere più competitive per quel match o in base all'avversario e sulla fascia chi ti trovi a dover affrontare schiero mario lui o schiero oliveira ma non è che se ne esce il procuratore no perché quelle nelle partite fisiche ha sempre schierato oliveira significa che nelle partite fisiche gli serviva più copertura cosa che il tuo assistito non gli dà perché mario lui ti dà sicuramente molto di più in fase offensiva in fase di assist e di dell'essere propositivo in avanti ma in fase difensiva lo sappiamo tutti che qualche pecca ce l'ha tanto è vero che io sono un estimatore di mario lui da sempre e l'ho sempre visto molto più come un esterno di centrocampo alto che un terzino e infatti poi parlano gli assist parlano le prestazioni e parla il campo per come gioca mario lui quindi carissimo mario giuffredi io non avrei mai voluto fare questo video di nuovo a parlare delle due dichiarazioni che ancora una volta sono fuori luogo nei tempi sbagliati e completamente incompetenti perché se tu sai fare il tuo mestiere portavi al napoli hai chiesto la cessione perfetto quando chiedi la cessione vai sopra in presidenza ci presidente io la roma o il real madrid o il milan o queste squadre che vogliono mario lui se non ci accordiamo per il rinno partiamo punto ma non è che vai e dici no ma quello se non se non arriva un'offerta come si deve allora dobbiamo rimanere in una squadra di scontenti se non arriva un'offerta vuol dire che non te non te la sei andata a cercare punto e basta senza se e senza ma mi sono anche dilungato fin troppo in questo video volevo restare un tantino corto nei tempi però poi parlando parlando escono fuori tutte diciamo tutta esce fuori tutta la mia visione negativa nei confronti di quest'uomo sarò io sbagliato fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi perché di queste situazioni ne abbiamo le scatole piene per non dire un'altra parola sempre forza napoli non dimenticatevi di iscrivervi al canale ciao